Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte di 3 dei miei acquisti al pescare show In questo video vedremo mosche e roba da light E nel prossimo ci sarà qualcosina di speciale Quindi mi raccomando mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete anche iscritti Mi raccomando mettete anche qua tanti like che ho intenzione di portarvi tanti video E attenzione attenzione da aprire ci saranno i video della vacanza Dunque anche per questo iscrivetevi e rimanete connessi attraverso i social Tutti i link qua sotto in descrizione Quindi via con la sigla Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come ho promesso nello scorso video degli acquisti al pescare show eccomi qui con le esche Mi raccomando superiamo i 100 like anche per questo video Abbiamo un po' di mix, qualcosina per il light, qualcosa per la mosca che spero utilizzare Mi raccomando passate da instagram per vedere degli scatenanti prima Magari con qualche pesce preso con queste esche Partiamo da più light fino ad arrivare a qualcosa di interessante che ho qui Dunque prima busta abbiamo dei gamberetti della rapture Che ho preso per utilizzarli a carpe e colori verde soprattutto era un colore che mi mancava per andare a carpe E soprattutto adesso che si sta scaldando l'acqua quindi iniziano a muoversi le creature e le carpe iniziano a aver più fame Questi gamberetti se utilizzati bene fanno la differenza secondo me Premoli un attimo per vedere come sono che non li ho mai utilizzati tra l'altro questi E poi anche in vacanza potrebbero servirmi Sentati a bestia Sono veramente piccoli e carini Magari utilizzati anche su realini o reali perché veramente imita alla perfezione un piccolo gambero Un gambero della Louisiana E soprattutto dove ci sono con la colorazione magari rossa potrebbe fare veramente i danni questa piccola eschina È veramente piccola quindi può essere usata anche a scardole Può essere usata soprattutto nel light rock fish in questa eschina qua Secondo me la ghiozza anche questa fa i devasti Scusate se ogni tanto guardo di là però devo controllare che si è messa a fuoco E questa la vorrei utilizzare il prima possibile Poi passiamo all'altra gomma che sono le dragonfly da 1,7 Chi ha passato anni sui canali sa bene che queste girano molto tra i fanghi e le carpe ne sono veramente ghiotte Ho preso una colorazione abbastanza naturale Un bel watermelon Andiamo a tirare fuori anche una di queste Perché l'ho preso? Perché a me piace intanto l'imitazione quindi nel senso andare a imitare le cose vere E questa diciamo che è una colorazione veramente che riproduce la realtà Infatti per chi le conosce sa che sono su quel verdognolo marroncino E stanno in mezzo al fango dove le carpe vanno a mangiare Soprattutto in primavera probabilmente vanno a cercare queste Adesso non so perché non so bene l'alimentazione della carpa E poi dipende anche dai vari spot comunque Perché non dappertutto ci sono queste Le carpe si alimentano anche di altro Non vedo l'ora di provarlo Anche questo direi che al light rock fishing può fare i severi danni Un sacco di catture soprattutto immagino Ha un sacco di parti mobili che possono fare piccoli movimenti Che spesso Che fanno piccoli movimenti I quali I quali alle carpe spesso non piacciono Andiamo a provarle in pesca il prima possibile Poi abbiamo queste palette da spinnerbait O comunque che si possono fare anche dei cucchiaini In questo caso verdi e tonde Perché devo sistemare uno spinnerbait E anche un altro paio Devo cambiare le palette Quindi anche questo magari andrò a utilizzarlo a Big Bass o Lucci Come vedete una bella palettina verde Dopo comunque ragazzi ci sono questi Ci sono due tipi di palette Quelle tonde E quelle a foglia Queste forme sono specifiche E ci sono dei motivi ben specifici Per utilizzare E quando utilizzare Dopo ho preso anche Sempre delle palette Però rosse E a foglia ovviamente Anche queste per cambiarle un paio di spinnerbait Ditemi anche voi Se vorreste vedere qualcosa sugli spinner Poi abbiamo questa splendida mosca Che mi è stata regalata Cacciato Obero Rosso Che ci tengo a salutare E ringraziare ancora Andatela a seguire Se mi seguite Per la pesca a mosca le carpe Andatela a seguire Che loro sono veramente bravi E in futuro Faremo il possibile per incontrarci E andare a carpe Così avrò modo anche di confrontarmi Con un altro pescatore a carpe A mosca E ringrazio veramente tanto Per questa mosca Come promesso appena ritornerò Andrò a provarla E farò il video Così vediamo quanto bene funziona Quest'esca È uno streamer Tipo a vermetto Vedete con una codina Un bell'amo resistente E dai non vedo l'ora di provarla Sempre parlando di mosche Abbiamo qui 4 mosche 4 streamer per la precisione Il primo è questo Streamerone Un amo montato offset Diciamo Con un filo che lo tiene Corazione rosso nera Non è del Milan Ho preso un po' di streamer del genere Per andare a fare iperca A mosca Quindi appena Appena riuscirò a tornare a perca Aspettatevi Perca a mosca Questo È uno dei più voluminosi Che ho preso Perché comunque Ho preso due Ne ho presi due Di streamer Per dedicarmi al perca Un po' più voluminosi Un paio un po' più piccoli Adesso andiamo a vederli con calma Intanto mettiamo qua Uno di quelli un po' più piccoli Però Attenzione attenzione È questo Bello streamer con un amo bello lungo Come vedete l'amo arriva fin qua Però In questo caso Colorazione verde È dotato di una piccola palettina Per fare vibrazioni Vedetela qua in coda Veramente carino Magari utilizzato anche a carpe o siluri Può andare molto bene Adesso bisognerà provarlo Non lo so Non ho mai provato una cosa del genere Ero curioso di provarlo Altro Streamerone È questo Colorazione bianca Che ricordo del pesce foraggio Anche a carpe mi viene ad utilizzarlo Ma questo Soprattutto A cavedani Voglio provarlo Oltre che a perca È veramente molto bello Guardate qua che colori Praticamente è un amo da jighead Come vedete C'ha il gambetto storto È montato su un piombo E un po' di piume Infine come streamer Pesantucci Abbiamo questo Questo è il più pesante Tra tutti e quattro Perché volevo qualcosa Per andare più velocemente sul fondo Come vedete è veramente carino Con un po' di arancio Tipo colorazione volpe Diciamo Pello di volpe Veramente carino Anche questo è un amo offset Non è una montatura su un amo Ma è un amo messo a parte E anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo Quindi speriamo Di utilizzarlo a breve Poi mi sono Pensato un po' A qualcosa da prendere per le carpe Prima di tutto abbiamo uno streamerino bianco Molto Compatto E leggero Colorazione un po' di bianco Un po' di nero Che mi mancava Ho tanto giallo Nero Però il bianco È una colorazione mosca Che mi mancava tanto Poi abbiamo un altro streamer Arancione Sempre piccolino Questo è un po' più grande Come forma Però Non esageratamente Questo può ricordare un po' Un chicco di mais Un piccolo insetto Questo andrò a utilizzarlo Quando ci sono molte alghe Che fa abbastanza contrasto E le carpe Mangiano molto L'arancione in quel periodo Quando iniziano a formarsi le alghe Poi abbiamo un altro streamer Questo è un pochino più grande Che Utilizzerò per cercare Quello un po' più big Che è un bel giallo Ma anche A Cavedani E perc Andrò a utilizzarlo Vedete È una bella codina Questo è già uno streamer Un po' più pesante Magari anche Cercando Qualche bella Qualche bella trota Questo Anche questo Non vedo l'ora di provarlo Perché Alcune carpe grosse Preferiscono un innesco Bello grosso Qualcosa un po' più proteico Soprattutto Prima della frega Che cercano più cibo possibile Poi abbiamo una bella moschina Per pescare a galla Questa l'ho presa Soprattutto per i cavedani Ho intenzione di Provare molto di più Quest'anno a cavedani E soprattutto Top water Ma anche per le carpe a galla Che quest'anno ho trovato Un paio di bei spot Con cui Questo potrebbe fare I danni Un'altra mosca da galla Questa ancora più voluminosa Dotata di due occhietti galleggianti Anche questa da utilizzare a carpe Ma anche cavedani Anche questa Ho preso anche un'altra Identica Però rossa Sempre super gadeggiante Per andare a carpe E cavedani Anche scardole Si può prendere con quella Poi abbiamo uno streamer Più piccolo Per dedicarlo ai cavedani Ah Poi abbiamo un altro streamerino Bianco arancio Infine Uno streamer Bello voluminoso Però abbastanza leggero Arancione E con le mosche Ho finito E con le mosche Io E con le mosche E con le mosche E con le mosche E con le mosche Grazie.